La caccia alla terza vittoria di seguito. Inzaghi dovrebbe confermare la formazione che ha vinto nei primi due giorni. Bench per Pavard e Klassen.Auta Cerbi. Sensi e Sanchez. Realizzare dalla qualifica per i gruppi della conferenza. Italiano valuta un fatturato ragionato in la porta. Christensen. Beltenne in avanti favorita da Enzola poteva essere vista. Le probabili formazioni.